Ok, passiamo, passiamo. Cos'è questo? Ma cosa stai facendo? Guarda e impara. Ma cosa stai facendo? Ma cosa succederà se lo apriamo? Fantastico, la scatola magica ha risaccato Mike. Dove siamo? Eh, Mike, apri la tua cassaforte. Eh, no. Dai, Kate, fai tu. Ma perché io vado per prima? Vabbè, vado io per prima. Bene, bene. Cosa c'è? Oh, no. Che zampe di pollo disgustoso. E lo volete per rubare? Eh, no, mia, mangia. Che cazzivi che siete. Oh, che schifo. Oh, ma anche io sto male. No, e ce ne sono così tanti. Oh, no. Adesso mi sento male. Devo scappare. Ciao, ciao, mia. Ok, Kate, tocca a te. Oh, che bella torta. Sì, fantastico. Che fortunata che sei, Kate. Sì, questa torta è ancora più buona. Bene, bene. Ora la affetteremo tutto quanto con il coltello. Che bello. Mi piacerebbe provare questa torta. Io ho un'idea. Ehi, bellezza. Sei così dolce proprio come questa torta. Oh, cazzo. Mi dai un pezzo? Ecco te. Ma cosa stai combinando qui? Ecco te, Mike. Su, apri la tua cassaforte. Presto. Va bene, va bene. Vediamo cosa ci... Cos'è? Una specie di bustine misteriosa. Non sappiamo cos'è. Vabbè, proviamo. Il gusto è strano. Cosa senti? Non è chiaro. Cercherò di averla tutta. Mi sento molto potente. Ma come sono queste facce strane? Oh, che bello. Sono fortissimo e devo scappare. Oh, che bravo che sono. Posso correre velocemente? Nessuno potrà raggiungermi. Oh, sì. Ottimo. Come si sta bene qui? Devo bere un po'. Che bel cocktail, bellezza. Oh, oh. No, la batteria sta scaricando. Ma dove è finito il mio cocktail? Eccomi di ritorno. Che strano che sono. So cosa fare. Ti faremo ancora più bella, Kate. Sì. Perfetto. Non possiamo lasciare che una torta è così bella. Vado sprecata. Devo godermela. Che buona che è. Adoro i dolci. Non posso fermarmi. Buona, buona, buona. No, 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 no. No, 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 no. Sì. Ottimo. Mi piace. E questo è il piatto preferito di mio. Ok, le piacerà. E così. Un ultimo ritocco. Fatto. Cosa? Cos'è? Ma che schifo! Basta, Mike. Adesso ne prendi. Oh, no. Credo che adesso mi colperanno. Cosa? I baffi? Fa ridere. Mike? Ciao, carina. Prendi! È un bergè. Oh, mamma. Ma c'è che ti accarezzi. Cosa? Ma che cavolo hai andato facendo? Cosa c'è nella mia casa forza? Non sento nulla. Non è chiaro. Beh, io apro prima. Oh, no. Quindi le moniocidi. No, no, non le mangerò. Ma sei un codardo, Mike. Eh, va bene. Dai, andiamo. Che schifo. Poveretto. Che cita? Oh, no. Guardate. Oh, non è un bel aspetto, Mike. Va bene, va bene. Adesso ce la farò. Dai, su. Apre la tua casa forza mia. Wow. Io inoro un po' qui. A forma di cuore. Che bello. Sono fredonate. Oh, bellissimo. Mio, svegliati. Sì. Guarda. Dai, su, Kate. Vediamo cos'hai tu. Sì, sì. Cosa mi aspetta? Oh, oh. Cos'è quella? Vediamo. Ok, apriamo e vediamo. Un libro e qui c'è una luce magica. Oh, cos'è? Oh, no. Di chi è questa mano? Oh, no. C'è un occhio qui. Eh, io vado. Oh, che paura. Mi sto male. Oh, mi piace così tanto il puppet. Mi rilasso così tanto. Oh, cosa facendo? Aspetta. No, non ti darmi il puppet. Non lo darò. Cosa? L'hai strappata? Adesso ti farò vedere io. Prendi. Prendi ancora. Oh, cosa sta succedendo l'alto? Scusa, posto. Oh, sì. Mia, sei forte. Sì, ben fatta, Mia. Ce l'hai salvati tutti. Sì, non avevo dubbi. Io sono così. Ok. Decidiamo che va per primo. E vai, io ho vinto. Oh, no. Sono le alghi schifuse. Ma che aspetto che hanno? Come fai a mangiarle? No, no. Non le mangerò più. Oh, no. No. Ma basta. Dai, smetti la mia. Povera Kate. È ora di aprire la mia casaforte. Che bello. Io ho dato il cocco. È così fantastico. Ma come se l'apre? No, i miei denti. Dai, mia. Devo aprirla. Non ce la faccio. Che viso che hai. E adesso vediamo cosa mi aspetta. Un telecomando. Ma cosa fa? No, 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 no. Oh, che dolore. Cos'hai fatto, Mike? Sorry. Apriamo questo pulsante. Wow. Cos'hai facendo, Mike? Basta. Ferma. Si è bloccata. Oh, che ridere. Va bene. Cosa succede? Non capisco nulla. Dai, su, Mike. Prema. Sì. È così divertente. Io telecomando. Adesso mi vendicherò. Ah, sei contento, Mike? Ah, sì. Cosa vede? No, 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 no. Non parla a me. Dai, su, su. Mangia, mangia. Oh, che schifo. Sto male. Ah, schifoso. Questo è il vero divertimento. Mia, basta. Dammi questo stupido. Te lo telecomando. No, no, no. No, l'avevo perso. Wow. Il mio cocco si è rotto. Finalmente. Dammi il telecomando. What? Sembra che abbia smesso di funzionare. È la mia fantastica noce di cocco. Finalmente la fa scurvare. Quale casa forte vorresti aprire? Scrivi nei commenti. E non dimenticarti di iscriversi al nostro canale. E di premere la campanella per non perdere nulla di interessante. Ciao, ciao.